Quadrelle messa sotto tiro dai ladri, il sindaco Simone Rozza scrive al prefetto Spene alle forze dell'ordine invitandoli a promuovere un tavolo tecnico a palazzo di governo d'urgenza. L'escalation di furti nelle case a quadrelle, così come in tutto il mandamento, rappresenta un incubo per le comunità. La psicosi domina tra i cittadini che la sera si riversano per strada per segnalare le forze dell'ordine e eventuali presenze sospette. Sarà un Natale molto triste, avverte il sindaco, con tanti cittadini che saranno costretti in questi giorni di festa a barricarsi in casa. Sicuramente un Natale triste, ma diverso dal solito, all'insegna della preoccupazione e della paura, soprattutto gli abitanti cittadini, i nostri cittadini hanno paura di lasciare incostruite le proprie abitazioni, ma anche semplicemente l'ordine di viverci. Infatti sono quasi due settimane che si verificano furti a cadenza quasi giornaliera, quindi una vera e propria escalation criminale che ha gettato nel panico l'intera popolazione. Io proprio per questo, ma soprattutto per dare alla popolazione con una certezza, proprio ieri mattina ho scritto una lettera indirizzata al prefetto, al questore di Avellino e alla compagnia dei carabinieri di Baiana, perché vorremmo capire un pochettino i carabinieri che cosa stanno facendo in questo momento. Soprattutto vorremmo capire che cosa potrebbe fare il prefetto, come potrebbe aiutarci, ma soprattutto vorremmo capire noi come potremmo essere utili. Quindi per tutto questo io ho chiesto la costituzione di un tavolo tecnico per la sicurezza e l'ordine pubblico del nostro territorio. Per noi la sicurezza è importante, è un impegno che abbiamo assunto con la cittadinanza, ma poi soprattutto vorrei ricordare che la sicurezza resta una priorità di tutti noi, di tutte le istituzioni che sono preposte sul territorio. Quindi nessuno può esonerarsi da questa responsabilità.